Presentata al Palazzo Vescovile di Ariano Irpino, l'ultima fatica editoriale dell'autore Nicola Prebenna, il saggio Pietro Paolo Parzanese, l'intellettuale che si volle poeta popolare. L'opera è dedicata al poeta e prete arianese vissuto nella prima metà dell'Ottocento tra Ariano e varie città del Meridione. Parzanese ci ha lasciato un'importante produzione letteraria che va dalle tragedie alle prediche. Attraverso il suo ultimo saggio, l'autore Prebenna, arianese come parzanese, propone una rilettura delle opere del poeta. Professor Prebenna, la sua attività letteraria continua, il saggio su Parzanese e il suo ultimo lavoro, possiamo dire che questa opera muove dal proposito di ridefinire, di rivalutare la poetica di Parzanese? Lei ha colto molto bene il senso della mia iniziativa, che però non è mia, in quanto il mio lavoro si inserisce in tutto ciò che è stato promosso dalle celebrazioni per il bicentenario della nascita del poeta. Però è fondamentale che con il passare del tempo non si smarrisca il patrimonio e la memoria di una personalità straordinaria che è quella del poeta Pietro Paolo Parzanese. Il problema è che però le interpretazioni mutano con il passare del tempo e quindi era necessario aprire qualche spiraglio nuovo dal punto di vista critico. Il mio lavoro vuole non tanto soffermarsi su quella che è ormai la consacrazione di Parzanese come poeta, Parzanese poeta popolare, cosa che del resto lui voleva, di cui lui voleva accreditarsi in maniera piena. Ma ho voluto porre l'accento su un altro aspetto della sua attività letteraria poco esplorata, ed è questo il senso della novità del mio contributo. La poesia dotta o la poesia culta, che è un aspetto non trascurabile della sua attività di poeta. Per cui Parzanese si configura come un poeta Giano Bifronte, da un lato poeta popolare perché lui voleva definirsi ed essere tale, però dall'altra parte non trascura la poesia che a mio avviso è quella in cui lui dà un fortissimo contributo e che rimane un pochino poco esplorato dalla critica. Che immagine ci consegna Parzanese di Ariano? Parzanese ha avuto nei confronti della sua città un rapporto solidissimo e fortissimo, che però non sempre si è coniugato con l'affetto per i concittadini o da parte dei concittadini nei suoi confronti. Parzanese ha avuto questo duplice atteggiamento di amore profondo per la sua città, cosa che lui dice benissimo nelle brevi memorie che lui aveva iniziato a scrivere. Dice di Ariano non posso dire altro che tutto il bene possibile che un figlio desidera per la propria terra. Grazie. 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 Grazie.